Durante questo congresso SIFO abbiamo organizzato una sessione che ha come argomento la medicina di precisione. Oggi ci troviamo in un'era di grande sviluppo tecnologico e soprattutto l'oncologia ha cambiato il suo approccio terapeutico passando da un'oncologia di precisione a un'oncologia basata su mutazioni genetiche e genomiche. Questo apre delle opportunità terapeutiche enormi che sono in parte regolate soprattutto in Italia dagli enti regolatori, quindi dall'AIFA, ma in parte ancora no. Questo apre ancora di più scenari di quello che può essere l'assistenza terapeutica, di come possiamo garantire i farmaci ai pazienti. La sessione avrà un ambito anche internazionale, avremo relatori di alto livello che porteranno esperienze sia italiane che in altri paesi d'Europa dove questa realtà è altrettanto sentita e altrettanto vissuta.